In proposito delle infrastrutture agrigentile, quindi delle aule o comunque delle strutture adatte per attivare i corsi di laurea o anche i master in questo caso, ci sono delle indicazioni su alcuni insediamenti tra Via Tenea e altri auditorium. Che situazione c'è adesso? L'auditorium è quasi pronto, stiamo cercando anche di... Spieghiamo dove si trova esattamente. L'auditorium sta al polo stesso, vicino al polo, dietro al polo stesso. È quasi pronto, direi al 95% pronto. Vogliamo aprirlo quest'anno. Vorrei mettere anche un suite di videoconferenza perché quello sarebbe una cosa assolutamente importante ed urgente di avere qui ad Agrigento, siccome ci sono difficoltà, uno non deve nasconderlo, come dice anche il Presidente, di arrivare qua. Uno arriva a Catania o a Palermo e poi ha due ore di macchine, ma c'è un altro modo di uscire da Agrigento, attraverso il mondo virtuale. E allora un suite di videoconferenza dentro l'auditorium aprerebbe un altro mondo perché possiamo per esempio fare collegamento con tutte le università europee e centri di esperti, non soltanto università, che possono arricchire l'università attraverso il mondo della videoconferenza, ma in un modo di prestigio, non soltanto in una piccola aula con un utilizzo minimo amatoriale, ma in un mondo professionale. Lo possiamo fare perché abbiamo l'auditorium appena pronto. Allora punterò moltissimo. Sarà pronto quello quando avremo anche la videoconferenza suite. Questa è una. La seconda cosa sulla residenza, sull'ex ospedale, anche là abbiamo quasi finito il lavoro, è tutto di grande valore, di grande livello. Dobbiamo aspettare chi lo gesterà perché questa sarà di gestione importante anche pubblica. E secondo me deve essere aperto non soltanto per gli agrigentini, ma anche per portare studenti stranieri che verranno da noi per utilizzare l'expertise dei professionisti che sono qui su Agrigento. Io sto parlando, allora mi collego al discorso di beni culturali che abbiamo preso prima. Cioè non dovrebbero essere soltanto studenti del territorio soltanto, ma il territorio può... Esatto, esatto, c'è bisogno. Qui siamo nel Culla. Io ho amici greci che quando vengono qua mi hanno detto guarda, se è Agrigento è quasi più bella di Atene, cioè è la verità. È vero perché sono stata ad Atene, ho vissuto anche in casa con delle ragazze greche, quindi ho visto questa realtà. Abbiamo più cultura greca forse noi qui in Sicilia, in questo territorio, che non ad est. È vero, è verissimo. E secondo me questo deve essere esploitato. Dobbiamo sempre, sempre salvaguardando la lingua italiana, si deve pensare ad altre lingue, lingue euromediterranee. Secondo me c'è l'inglese e il francese che sono le due lingue ufficiali dell'Euromed. E dobbiamo anche puntare su queste due lingue. Infatti faremo un corso, abbiamo cominciato immediatamente con l'inglese. Infatti tutti i nostri studenti che quest'anno saranno scritti al polo, avranno dei corsi specifici, tutti quanti. In tutte le aree avranno supporto in questa lingua, corsi riconosciuti dal British Council, eccetera. Cioè io vorrei essere assolutamente coperto in questa cosa qua, perché vorrei che i nostri ragazzi, e abbiamo già cominciato a mandare anche studenti a fare lo stage, eccetera, fuori, perché vorrei assolutamente puntare. Qui dobbiamo attrarre, perché la Sicilia, come altri paesi, purtroppo perde molti menti importanti. Ho molti amici siciliani che stanno, non so, ad Imperial College a Londra, eccetera, erano medici bravissimi qui, forse poco apprezzati. Dobbiamo cercare di apprezzare le persone. Qualche volta non è soltanto una questione di soldi, ma è una questione di visibilità, di aiutarli a sviluppare, a crescere, ad avere posti importanti dentro gli enti europei e mediterranei, perché qui siamo a due passi, veramente a due passi del Mediterraneo. Lei è già Ministro delle Affari Esteri, nonché Capo di Gabinetto a Malta. Una domanda che comunque sorge spontanea. Come ha conosciuto il Presidente Dorsi? Come vi siete incontrati? Allora, più che altro il Presidente Dorsi è conosciuto me che... No, io ero in Egitto per un convegno, mi hanno sentito parlare, cioè poi la mia figura, insomma, mi conoscono abbastanza. No, non ho dubbito la sua competenza assurda. No, 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 mi hanno sentito parlare, c'era anche il Ministro Egiziano, che è un mio amico, stavamo parlando, e durante questo convegno mi hanno chiesto un aiuto. Io sono qui per aiutare, e la vedo come una cosa di aiuto personale alla provincia di Agricento, perché il mio lavoro come Presidente delle Muni è già tantissimo, e poi abbiamo dei challenges importanti. Adesso c'è la Presidenza spagnola, il primo gennaio vorrei puntare tantissimo, sto puntando molto sul discorso delle università israeliane palestinesi, che stiamo puntando anche in quest'area. Allora ho soltanto messo a disposizione il mio expertise per Agricento, cercare di aiutare la provincia a sviluppare. Poi ero stato qua tanti anni fa con la mia famiglia, passando da qua ho trovato un posto assolutamente splendido, cioè è un territorio della Sicilia, poi è da sviluppare. C'è il pensiero importante della Sicilia che deve pensare per sé, perché io sono uno, anche se non sono siciliano, sono uno che sono molto convinto della Sicilia, Sicilia può farcela molto molto bene, puntando su un programma, secondo me, fatto dalla Sicilia per la Sicilia, pensando per la Sicilia. Poi le altre cose verranno dopo, ma secondo me si deve in questo momento puntare assolutamente di collocare la Sicilia dentro l'area euro-mediterranea. E questo è una cosa, secondo me, è un obiettivo da raggiungere, ma non è, assolutamente non è una cosa che io, secondo me, non è una cosa insormontabile, cioè è possibile. Quindi il 28 settembre magari avremo delle risposte in merito al programma definito sull'Università del territorio agrigentino, quindi magari vorremmo poi sentirla in quella giornata. Va bene? Con grande piacere, io invece di sentire a me, perché forse è un discorso, vorrei che sentite le persone che verranno, perché secondo me è molto interessante sentire... Le opinioni? Eh, di questi, perché una cosa che gli chiederò, una cosa già detta, già fatta, eccetera, è di non aspettare che noi diamo qualcosa a queste persone, ma queste persone devono darci qualche aiuto. Se è un... qualche volta la persona, no, facciamo tante cose, eccetera, se uno fa questo challenge, no, io lo chiamo agrigento challenge, un challenge per cercare... Scambio culturale. di sviluppare delle competenze per questo territorio, che loro hanno già sviluppato in altri enti, in altri posti, in altre istruzioni. E poi, la... il progetto dell'aeroporto, è un progetto ambizioso, e comunque il Presidente vuole... crede molto, questo magari aiuterà anche allo sviluppo, no? Pensavo... Sì, sì, secondo me è possibile, perché io vedo, per esempio, anche altre aree, sono, per esempio, io ammiro moltissimo, se devo essere sincero, per esempio, enti come sviluppo Umbria. L'Umbria è stata sviluppata, in un certo momento, anche attraverso il suo aeroporto, molti l'hanno criticato, perché non ci sono tanti passeggeri, eccetera, eccetera, ma il fatto che è un'apertura, per esempio, loro hanno puntato sul turismo sacro, perché ha sì, sì, allora la gente viene, eccetera, anche altri... Secondo me è una cosa interessante, che potrebbe essere qui, avrebbe, anzi, avrebbe più ricchezza. Sono due ore, poi anche le strade, uno sa, io le faccio spesso, perché le sto facendo assolutamente spesso, è una cosa molto difficile da arrivare, specialmente di sera, eccetera, se uno, per esempio, vuole portare 50 studenti qua, e poi riportarli, o portarli in altri posti, è molto difficile, molto difficile. Secondo me, un aeroporto vicino, nel territorio, darebbe un'apertura molto, molto importante per il territorio stesso, perché questo territorio ha bisogno, è stato come una pentola che ha un coperchio, no? Adesso dobbiamo togliere il coperchio, perché così escono i profumi. Benissimo, noi la ringraziamo, salutiamo il nostro Maradona Nostrano, come è stato definito dal Presidente Dorsi, e la ringraziamo per essere intervenuto oggi, e poi sentiremo appunto le opinioni degli studenti della città di Grigento, e quindi la terremo in contatto. Grazie. Buona giornata, grazie. Grazie.